Un membro sottoscritto che recitava appunto piano cante del regolamento consigliato abbiamo iniziato da quello che dicevamo che potesse essere di un provvedimento che il Partito Democratico aveva dimostrato di avere a cuore da che le interesse e quindi siamo partiti dal regolamento del Consiglio ma è stato approvato in un'unica tenuta ecco, a fronte dell'unica tenuta la conclusione di questo provvedimento doveva portare il titano ad una lista di progettità della sua vita ecco, questo è stato, diciamo, il nostro percorso come maggioranza noi ci siamo impegnati a che questo provvedimento fosse, diciamo, la nostra vita in questo percorso e siamo andati avanti anche con molta sofferenza all'interno di una maggioranza approvando il percorso come maggioranza ritengo che il Partito Democratico rispetto al Consiglio Comunale di Stasera e rispetto ai tre consigli che abbiamo potuto chiarire di voi e di voi capire la sua posizione noi andremo avanti perché riteniamo che questi procedimenti siano a favore della città vanno nel verso che tutti quanti noi lo spieghiamo certo, il Consiglio Comunale ci saranno sicuramente persone di buona volontà qui, noi facciamo appello che sofferranno questo provvedimento grazie grazie grazie